Il presidente della regione Enrico Rossi ha firmato la nuova ordinanza che a partire da venerdì primo maggio dà nuovamente il via libera alle attività motorie in tutto il territorio di ciascun comune toscano. Dal primo maggio quindi è consentito passeggiare, fare jogging o andare in bicicletta anche non nelle immediate vicinanze della propria abitazione, come previsto finora dalle misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus. A livello individuale potranno svolgere attività motorie a tutti i cittadini e poi i genitori con i propri figli minori, le persone non completamente autosufficienti insieme ai loro accompagnatori, le persone residenti nella stessa abitazione. In nessun caso sarà consentito l'uso di mezzi pubblici o privati per gli spostamenti. Tutte le attività dovranno iniziare presso le abitazioni e concludersi presso le stesse. Ma c'è un'altra novità importante. Genitori e figli minori residenti nella stessa abitazione, così come accompagnatore e persona non pienamente autosufficiente, non sono tenuti più a mantenere all'esterno il distanziamento sociale che invece resta necessario per tutti gli altri. La nuova ordinanza è stata predisposta dalla regione d'intesa con Anci Toscana e Upi Toscana.